Grazie di essere qui, spero che questa giornata possa essere bella, così ricordati che più o meno tutto fa blog, tutto è implogabile se volete, se avete voglia di farlo e se succeda in voi qualche emozione, questo è il tipo di varietà che un lifestyle blog presenta. È stato un piacere essere qui con Chiara oggi, è una professionista veramente con l'idea Chiara e ce l'ha con un sacco di tips utili. Mi ha dato delle linee guida molto importanti per poter andare avanti nel mio lavoro e cambiare direzione senza avere paura, molto contenta di essere qua, è molto grata. A volte ci sono cose che sai ma hai bisogno di qualcuno che te le metta in ordine per ricavare il massimo risultato. Grazie a tutti.